Buonasera e ben ritrovati da Giuseppe Bellino a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telebari in apertura del nostro telegiornale parliamo del Natale perché Bari inizia ad addobbarsi per le festività natalizie sono già in allestimento le luminarie a cura della ditta Paolicelli vediamo questo servizio realizzato da Raffaella Di Renzo Bari inizia ad addobbarsi per la festa più attesa dell'anno sono già in allestimento le spettacolari luminari a cura della ditta Paolicelli nel salotto di Bari i lavori procedono alacremente con la stesura dei filari luminosi pendenti sono spenti ma già preannunciano in vista del giorno in cui verranno accese alla presenza delle autorità cittadine un'atmosfera natalizia più calda che mai anche alcuni negozi hanno già addobbato le loro vitrine in un ideale gara alla ricerca della bellezza e del glamour con un occhio particolare alla raffinatezza dei simboli utilizzati ma ci si aspetta che oltre la meticolosa cura dell'aspetto estetico ci si riveli con l'animo più incline a quello che è il vero senso del Natale Noi cambiamo argomento parliamo di maltempo violente grandinate e neve anche a bassa quota stanno interessando tutto il territorio pugliese facciamo il punto della situazione con questo servizio e ascoltiamo quali sono le previsioni per i prossimi giorni con il colonnello vita Antonio la ricchia alberi caduti sotto i colpi del vento vigili del fuoco in azione per mettere in sicurezza alcune strade ma non solo neve anche a bassa quota come si può vedere in questi video girate ad alta mura nel foggiano oltre a grandinate improvvise la puglia accoglie l'inverno l'intera regione è stata infatti interessata da un'improvvisa perturbazione che ha causato un abbattimento termico di circa 10 gradi minime vicine allo zero e fenomeni atmosferici violenti si verificheranno nelle prossime ore come spiegato dal colonnello vita Antonio Laricchia già da una giornata di ieri venti forti di tramontana spruzzate di neve perché l'aria ghiacciata appunto ha portato le prime nevicate della stagione intorno anche ai 500 metri come è accaduto anche questa notte sui rilievi e sull'entroterra temperature basse questa mattina qui a Bari abbiamo 6 gradi una piccola grandinata ci ha interessato tempo ancora perturbato La situazione dovrebbe migliorare leggermente tra martedì e mercoledì una breve sosta prima dell'arrivo di un'altra perturbazione A partire da domani non ci salva quello che chiamo l'amico maestrale i venti incredibilmente ruoteranno a quadranti meridionali perché torna il flusso atlantico l'unico lato positivo saranno le temperature che tenderanno senz'altro a risalire in maniera notevole non più 6 gradi come questa mattina ma avremo temperatura attorno ai 14 15 gradi perturbazione atlantica che ci verrà interessare tra lunedì notte e martedì quindi sempre ben coperti ombrella a seguito sciarpetta e capellino attenuazione verso la metà settimana e poi ancora mal tempo verso il fine settimana prossimo venturo E adesso invece parliamo di politica perché Michele Laforgia resta in corsa per diventare il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra e le associazioni politiche che appoggiano il penalista barese hanno chiesto la convocazione del tavolo di coalizione in tempi brevi al partito democratico vediamo Michele Laforgia resta in corsa per guidare la coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative baresi è quanto emerso durante l'incontro della convenzione per Bari 2024 riunitasi ieri nella sede dell'associazione La Giusta Causa presente alla riunione i rappresentanti di numerose associazioni politiche da sinistra italiana a Bari Bene Comune passando per Italia Viva e per il Movimento 5 Stelle ospite a sorpresa con il coordinatore Raimondo Innamorato dalla discussione si legge in una nota è emersa la volontà di lavorare per l'unità della coalizione di centrosinistra in continuità con il percorso tracciato in questi anni e nella comune consapevolezza della necessità di compiere un ulteriore cambio di passo per essere all'altezza delle sfide che attendono la città al termine del secondo positivo mandato di Antonio De Caro poi l'affondo nei confronti del Partito Democratico che esattamente una settimana fa ha azzerato le candidature delle assessori Petruzzelli e Romano e dell'onorevole Lacarra una battuta d'arresto preoccupante definita dalle associazioni e vista come un tentativo maldestro di trasformare la discussione in una conta di voti il PD deve chiarire, conclude la nota della giusta causa quali siano le ragioni politiche per non sostenere la candidatura di Michele Laforgia definita divisiva e comunque definire le caratteristiche di una figura unitaria la riunione si è conclusa con la richiesta di riconvocazione del tavolo della coalizione in tempi ragionevoli, non oltre la prima settimana di dicembre a cui le associazioni politiche di sinistra auspicano anche la presenza di Michele Laforgia in qualità di candidato sindaco stabilendo regole chiare per il prosieguo e l'ordine dei lavori e noi cambiamo argomento, l'influenza è già arrivata in Puglia con percentuali di contagio che sono già sopra la media stagionale, è il punto con questo servizio di Serena Russo L'influenza ha già fatto Capolino in Puglia con percentuali di contagio che sono già sopra la media stagionale lo rileva il monitoraggio della rete dei medici Sentinella nella settimana dal 13 al 19 novembre ultima di analisi l'incidenza è pari a 5,07 casi ogni 1000 assistiti sopra la soglia media stagionale che si attesta sui 4 casi ogni 1000 pazienti come sempre avviene i bambini sono i più colpiti nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano infatti 9,17 casi tra i 5 e i 14 anni si scende a 6,53 casi ogni 1000 assistiti ma anche tra gli adulti si è sopra la media stagionale nella fascia 15-64 anni si registrano 5,23 casi ogni 1000 pazienti mentre nella popolazione over 65 i casi calano a 2,75 ogni 1000 resta alto dunque il livello di allerta dei medici di famiglia dei pediatri di libera scelta è ancora consigliabile eseguire il vaccino per tutti i cittadini compresi nelle fasce di rischio definite dal Ministro della Salute i dati soprattutto quelli relativi alla fascia di età superiori ai 65 anni e si è concluso a Bari il congresso della Fondazione Italiana Linfomi per la prima volta in Puglia si tratta di un segnale per dimostrare come si possa fare rete per migliorare le cure anche al sud evitando di andare così fuori regione ce ne parla Roberto Mangi circa 500.000 persone in Italia che convivono con un tumore del sangue 30.000 nuove diagnosi annuali si è conclusa a Bari l'assemblea plenaria della FIL la Fondazione Italiana Linfomi il soggetto che in Italia sviluppa progetti di ricerca per la cura di queste patologie l'appuntamento di Bari primo in Puglia visto la partecipazione di oltre 300 persone con la presentazione dei risultati delle attività scientifiche di 12 commissioni e 2 gruppi di lavoro ma assume anche un significato simbolico per il valore nelle cure e nella ricerca che può avere per il sud Italia dobbiamo fare squadra questo è il nostro segreto noi grazie alla Fondazione Italiana Linfomi abbiamo creato dei gruppi di lavoro importanti a livello nazionale siamo noi promotori di diversi studi a livello nazionale abbiamo il laboratorio in cui arrivano pezzi bioptici da tutta Italia e per converso reclutiamo noi pazienti in trial clinici che consentono al paziente uno standard terapeutico nazionale è chiaro che non può essere solo Bari dobbiamo coinvolgere tutto il sud perché il paziente non deve andare fuori di casa il paziente deve essere a casa e quindi creando il network su tutti i gruppi di ematologia del sud il livello assistenziale e di qualità assistenziale può migliorare ed è tutto pronto per la quarta edizione della Coppa d'autunno Radici Sailing Cup organizzata dal Circolo della Vela Bari tutti i dettagli nel servizio la quarta Coppa d'autunno Città di Bari primo trofeo challenge Radici organizzata ancora una volta con grande determinazione dal Circolo della Vela Bari insieme agli altri circoli velici baresi va a Faust per due di Paolo Scattarelli per l'altura e all'Emilio di ASD Compagnia del Mare con Francesco Mastropierro al timone per la mini-altura seconda classificata un solo punto di distacco dalla prima in altura è Grace di Nicola Turi seguita al terzo posto da Idra di Savino Valerio sempre per l'altura hanno conquistato un premio anche i primi tre classificati di ogni categoria per la crociera regata primo classificato è stato sempre Faust per due seguito da Ganzuria 5 di Claudio Dabicco e da Idra per la classe Gran Crociera premiati invece Biba di Giacomo Scalera arrivati al primo posto con alle spalle Morgana di Paolo Barracane e Freedom di Francesco Lorusso in mini-altura invece il podio si completa con l'argento andato a Extravagance Federiciana di Giuseppe Pannarale e il bronzo a follevolo Pegasus di Antonio Passore con al timone Joseph Passore la coppa è patrocinata dal comune di Bari e durante la serata sono stati premiati anche i vincitori dei due singoli trofei che hanno composto la coppa d'autunno Trofeo Carofiglio e Trofeo Bottiglieri la quarta edizione queste coppe d'autunno che sono un po' l'avvio della stagione di altura quindi un po' il ritorno in acqua dopo le vacanze nella 36esima edizione del Trofeo Bottiglieri che ricorda un grande nostro vicepresidente e la 20esima edizione del Trofeo Carofiglio che è stato presidente del Circolo per diversi anni ebbe l'idea col vicepresidente nautico dell'Ebo che è Enzo Giacalone di istituire un trofeo d'oro che è questo che fu preso da me che viene dato ai timonieri e non agli armatori Noi cambiamo argomento un protocollo d'intesa è stato siglato tra la società sportiva barese Angiulli e l'istituto oncologico Giovanni Paolo II vediamo quali sono i dettagli di questo accordo nel servizio di Raffaella Di Renzo È la più storica e gloriosa società sportiva barese l'Angiulli che quest'oggi nella sua sede è presente il protocollo d'intesa con l'istituto oncologico di ricerca e cura Giovanni Paolo II finalizzato alla promozione dei corretti stili di vita allo scambio di buone pratiche e professionalità tra le due strutture Il paziente non è solo un paziente ma la cura si apre a nuovi percorsi Ci sono gruppi che afferiscono all'istituto oncologico che fanno attività fisica ai quali la società Angiulli ha già da tempo offerto ospitalità inserendosi nei percorsi di cura Reattivazione muscolare Yoga Fit walking e Nord walking Biodance seguiti da istruttori dell'Angiulli e altri da istruttori della società sportiva sono le attività in essere Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con l'istituto oncologico e quindi noi metteremo a disposizione i nostri strutturi e le nostre strutture quindi tutti gli strutturi competenti al servizio dei pazienti dell'oncologico così come i medici dell'oncologico assisteranno i nostri atleti per quello che riguarda la nutrizione e tutte le altre competenze che possono servire ai nostri agonisti e ai nostri soci La nostra idea in senso olistico e di One Health è curare le persone che non sono affette di patologie prevenendole ma soprattutto ricevendo anche collaborazione da parte loro per avviare ad attività motoria le persone che hanno bisogno di affrontare un percorso di cura unitamente anche alla prevenzione primaria quindi è un progetto che apre le porte dell'istituto oncologico alla socialità va benissimo ma soprattutto alla salute collettiva E noi ora passiamo al calcio il Bari cade in casa contro il Venezia al San Nicolai i Lagunari superano i biancorossi con un netto 3-0 e allora ascoltiamo l'analisi di Enzo Tambor responsabile dei servizi sportivi di Telebari e poi le parole del mister Pasquale Marino è iniziata male ed è finita peggio è iniziata con l'infortunio a Dio prima dell'inizio della partita è finita con la sconfitta per 3-0 in casa contro il Venezia e con gli infortuni a Puccino e Nasti insomma peggio di così non poteva andare è chiaro che se questa partita doveva darci delle risposte rispetto alla possibilità di un Bari capace almeno di giocarsi per bene e playoff la risposta è stata assolutamente negativa il risultato forse è eccessivo perché gli ultimi due gol di Venezia sono maturati negli ultimi 5 minuti di gioco ma il fatto che il Bari abbia se vogliamo anche nel secondo tempo provato a fare una partita senza rendersi mai pericoloso dà l'idea di come probabilmente questa squadra non sia pronta e attrezzata per fare un campionato di vertice abbiamo visto giocare in Venezia e abbiamo capito purtroppo come si fa se guardiamo la partita dobbiamo essere anche obiettivi nel senso che la squadra ha lottato contro una delle candidate alla promozione diretta e siamo stati in partita fino alla fine abbiamo avuto anche noi tante occasioni come i nostri avversari non penso che ci abbiano messo sotto abbiamo reagito colpo sul colpo è un peccato che gli eventi non sono stati positivi fin dall'inizio fin dal riscaldamento che abbiamo perso qualche giocatore e quando magari nel Venezia manca qualche giocatore importante abbiamo visto con chi lo hanno sostituito però è un peccato perché noi siamo stati in partita fino alla fine ed è arrivato il momento di passare alle notizie provenienti dall'area metropolitana di Bari e dalle altre province pugliesi partiamo da Taranto e parliamo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne vediamo quali sono state le iniziative organizzate dagli studenti degli istituti Tarantini in questo servizio di Angelo Ingenito il 17 dicembre del 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54-134 indice la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne stabilendone la data per il 25 novembre di ogni anno una giornata questa che non è solo un simbolo di lotta e resistenza ma anche un promemoria dell'essenziale ruolo dell'educazione nella costruzione di una società più equa e priva di violenza di genere le scuole in questo processo educativo svolgono un ruolo cardine e le varie iniziative degli istituti scolastici Tarantini ne sono la testimonianza dal minuto di raccoglimento osservato dagli studenti dell'istituto Pitagora a ricordare la povera Giulia vittima di un amore malato alla coreografia realizzata da un gruppo di ragazze e ragazzi dell'istituto Leonida di Taranto che ci ricorda purtroppo che dall'inizio di quest'anno ad oggi ci sono stati 106 femminicidi di cui 87 in ambito familiare ed affettivo Giulia è diventata un simbolo per tutti io credo che noi scuole possiamo fare tantissimo perché nella scuola c'è un punto di riferimento educativo importante ma da soli no abbiamo bisogno delle famiglie e credo che questo debba essere un patto tra famiglia e scuola e società per contribuire a vincere una tragedia su una tragedia che ci lascia mortificati e sconfitti questa giornata è significativa però è un segnale tutti i giorni occorre proseguire a lanciare il messaggio invitare le donne a denunciare a non aspettare e nello stesso tempo far sì che le donne siano anche libere di essere protagoniste in questa società e si è concluso a Savelle Tri di Fasano il decimo convegno di studi promosso dalla fondazione San Domenico sul tema della civiltà delle grotte c'era per noi Francesco Russo un viaggio nel tempo dal paleolitico alla civiltà greco-romana passando dal periodo neolitico fino all'età del bronzo nel segno delle grotte si può riassumere così la decima edizione del convegno di studi tenutosi presso Masseria San Domenico a Savelle Tri promosso dall'omonima fondazione presieduta da Marisa Lisi Melpignano e dal professor Cosimo Damiano Fonseca storico e accademico dei lincei al vertice del comitato tecnico-scientifico l'occasione ha visto susseguirsi interventi di esperti di calibro internazionale a sottolineare i tratti caratteristici delle civiltà rupestre in tutto il Mediterraneo ci sono centri dove si trova molto grotte come qui a Puglia ma anche in parte di Grecia o nell'Anatolia occidentale ma è un fenomeno che diciamo mostra rapporti culturali rapporti religiosi fra varie zone del Mediterraneo e questo fa il fenomeno soprattutto interessante per noi archeologi e storici 5 le borse di studio che hanno permesso a giovani studiosi di partecipare al convegno nel cuore della Puglia che si conferma una testimonianza eccezionale per la presenza delle grotte per gli insediamenti umani come la grotta Romanelli vicino Castro in Salento ci sono testimonianze di almeno due fasi in questa grotta della presenza umana una molto molto antica presenza di neandertaliani sostanzialmente dove c'erano dei manufatti in calcare che appaiono essere molto primitivi da questo punto di vista ma nella stessa grotta poi c'è una seconda fase caratterizzata dalle cosiddette terre brune dove c'è la presenza invece di Homo Sapiens questa regione la Puglia ha delle evidenze importantissime a livello internazionale e hanno fatto il giro d'Italia le dichiarazioni del consigliere comunale del comune di Brindisi Cesare Mevo l'esponente di Fratelli d'Italia da cui ora l'opposizione cittadina si aspetta le dimissioni ce ne parla Riccardo Celli hanno provocato scalpore indignazione a livello nazionale le dichiarazioni di Cesare Mevoli consigliere comunale Brindisino di Fratelli d'Italia Mevoli ha prima condiviso vari post su Facebook definendo la sorella di Giulia Cecchettin Elena come un'appassionata di Satana che farebbe meglio a stare in silenzio poi ha rincarato la dose sia con dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa che con altri post condivisi al web che definivano chi compie femminicidi come un effemminato e non un vero uomo il partito democratico Brindisino e regionale è stato il primo a chiederne le dimissioni a firma del segretario regionale Domenico De Santis la presidentessa dell'assemblea regionale del partito Liazzarone oltre che del circolo provinciale di Brindisi anche le altri partiti d'opposizione tra cui il Movimento 5 Stelle e varie liste civiche ne hanno chiesto le dimissioni da Fratelli d'Italia Brindisi invece Mevoli viene difeso tranne che del consigliere comunale Roberto Guarta che descrive come inaccettabili le sue parole ne chiede le dimissioni e annuncia di voler interpellare la presidentessa Giorgia Meloni Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale l'informazione di Telebari prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito web a tutti un buon proseguimento di giornata Ben trovati da Nico Schiodetto previsione per la giornata di lunedì quando una nuova perturbazione da ovest man mano dall'isola britannica dalla Francia cercherà di raggiungere il Mediterraneo e attiverà intanto delle correnti molto umide di Libecio che apporteranno le prime precipitazioni sul nord-est e sul versante tirrenico perturbazione la parte più attiva che giungerà poi martedì con diffuso maltempo su molte zone del centro-sud e sul nord-est quasi da tutto saltato al nord-ovest comunque possiamo notare la nuvolosità le nuvole che inizieranno ad aumentare su molti settori della nostra penisola difatti da ovest questa perturbazione che già porterà maltempo sulla Francia ma appunto tra lunedì sera e martedì anche un po' tutta Italia in sintesi la mappa delle precipitazioni possiamo notare inizialmente tempo asciutto ma dal pomeriggio le prime piogge sul versante tirrenico e man mano guadagnano strada anche tra Lombardia e nord-est dalla serata la mappa della nostra penisola ci conferma questo incremento della variabilità le nuvole sempre più compatte della serata temperature in lieve aumento al centro-sud per il libeccio freddo invernale invece al nord anche le massime qui sotto i 10 gradi tutti i dettagli precisi gli approfondimenti sull'app di Trebi Meteo